E' solo a mezzare duecento kg Inequilibrio sopra l'annove Lo sai che riesco ad alzare un aereo solo con le palfe Ho fatto piaccia in Egitto e ho costruito una piramide Però non riesco a capire perché sto qui per insegnarmi a modare E perché quei piani sono qui da andarsi Perché io sto sempre qui Quel po' è la paraguida di Rodin E non sa cosa ci fa perché I migliori devono stare qui A guardarti A porto basta aspettarti E poi pulire E lo che resta E non avevo dubbi di avere un superpotere Avrei potuto scalare un vulcano Ma lavoro al supermercato Dalle tue labbra sento già la lezione Non è questa la questione La mia congegiativa La mia congegiativa Io so già qual'è Ma adesso voglio solo parlare Perché E perché Quei piani sono qui da andarsi Perché io sto sempre qui Quel po' è la paraguida di Rodin E non sa cosa ci fa Perché i migliori devono stare qui A guardarti A porto basta aspettarti E poi E poi E poi E poi E poi E poi Grazie a tutti Grazie a tutti